Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Giorno che apriamo subito con la buona notizia del ritrovamento nella nottata del 16enne via Regino scomparso mercoledì in mattina dopo lunghe ricerche. Sentiamo il nostro servizio. E' stato ritrovato giovedì notte poco dopo le 24 il 16enne via Regino scomparso dalla mattina di mercoledì. Le squadre di ricerca lo hanno ritrovato in pineta e in buone condizioni di salute ed è stato affidato alla madre. Il ragazzo si era allontanato da casa con la bicicletta ma senza cellulare la mattina presto per andare a scuola fra le 4 e le 6 di mercoledì per raggiungere la fermata dell'autobus per poi raggiungere l'alberghiero di Marina di Massa. Le ricerche sono scattate nel tardo pomeriggio dopo la denuncia da parte dei genitori. Operazioni complesse coordinate dalla prefettura di Lucca che hanno visto l'impiego di tutte le forze dell'ordine e dei vigili del fuoco con varie unità e un nucleo di cinofili. A per lustrare la costa da via Reggio fino alla Spezia e persino a Livorno anche un elicottero della guardia costiera. Le prime ricerche sono partite proprio dalla pineta di Ponente dove poi è stato ritrovato in nottata. Quasi due giorni senza averne traccia, 48 ore di paura per la famiglia e di apprezzione per l'intera città dove si era diffusa rapidamente la notizia. Anche il sindaco Giorgio Del Ghingaro aveva lanciato un appello in serata per aiutare a trovare il giovane studente, poi per fortuna il liato fine. Cambiamo totalmente argomento adesso e la notizia di un triste primato per la città di Lucca, quella del record di assicurazioni auto più care d'Italia. Ce ne parla Guido Casotti. L'Unione Nazionale Consumatoria ha elaborato i dati Istat dell'inflazione di settembre, stilando la classifica delle città o delle regioni che hanno registrato i maggiori rincari annui per quanto riguarda le banche, i servizi finanziari e le assicurazioni, che comprende l'RC Auto, i servizi assicurativi per la salute e l'abitazione. Per quanto riguarda le assicurazioni, il dato è clamoroso, in testa le città più rincarate, infatti vi è Lucca, al primo posto con un più 7,6%, precede Perugia più 5,3%, Cuneo 5,2%, Torino 4,7%. Dall'altra parte della classifica, i risparmi maggiori sono invece dettati da Belluno, meno 11%, Pordenone, meno 7,4%, al terzo posto Roma, meno 4,9% a ribasso anno. Incredibili, le disparità sul territorio, dal più 7,6% della nostra città, al meno 11% di Belluno, sono 18,6 punti percentuali. Va considerato che almeno per l'RC Auto i prezzi avrebbero dovuto precipitare per via del lockdown, invece in media nazionale i servizi assicurativi nel loro insieme scendono solo del 0,4%. Se si considera che gli italiani sono rimasti fermi per ben 69 giorni, dal 10 marzo al 17 maggio compresi, ossia fino a quando non sono stati consentiti gli spostamenti liberi in regione, allora l'importo dell'RC Auto sarebbe dovuto calare su base anno del 18,9% contro il 5,4% segnalato dall'Ivas nell'ultimo bollettino, ma così purtroppo non è stato. E veniamo adesso invece ai fatti di cronaca, ve li raccontiamo attraverso il nostro sito web NoiTV.it con questa notizia che riguarda un giovane 23enne arrestato per spaccio di droga dai carabinieri, è un italiano di 23 anni, arrestato dai carabinieri del radiomobile di Lucca, la sua ragazza, Quetania, invece denunciata in stato di libertà. I due controllati dai carabinieri in via Sarzanese, entrambi a bordo dell'auto di lei, sorpresi con due grammi di eroina e un grammo di marijuana, dalle perquisizioni domiciliari si è arrivata all'abitazione del giovane a Sant'Anna, 18 pasticche di ecstasy, ulteriori 3 grammi in polvere e presso l'abitazione della ragazza a Capannori, a Guamo per l'esattezza, un bilancino di precisione con tutto quello che occorre per lo spaccio della droga. E dunque i due, uno arrestato e lei invece denunciata. E adesso veniamo invece alla curva del contagio sul nostro territorio e torniamo a dare uno sguardo agli ultimi numeri disponibili, quelli del bollettino regionale di ieri, come sapete poi nel pomeriggio arriveranno le nuove cifre, questi però sono i dati più rilevanti delle passate 24 ore, nuovi contagiati in Toscana, 1.145 in particolare, da sottolineare i tamponi eseguiti, sono 11.495, oltre 7.200 i testati, soggetti nuovi testati, escludendo ovvero i tamponi di controllo, la percentuale resta alta, la percentuale di tamponi positivi, ovvero il 15,7%, il resto lo vedete, i ricoveri attuali 606, 27 in più, terapie intensive 82, 6 in più e poi 8 decessi. Il dato della provincia di Lucca, eccolo qua, lo vedete, con Piana di Lucca 43, Valle del Sertio 12 e Versilia 40 nuovi contagi, all'ospedale di Lucca 36 i ricoverati, all'ospedale Versilia invece sono 13 i ricoverati Covid. A proposito di ospedali, la Regione Toscana con un'ordinanza nei giorni scorsi ha imposto nuove misure di restrizione per accedere alle strutture ospedaliere e diverse le novità, sentiamo in particolare quelle stabilite dalla ASL per l'ospedale unico della Versilia. Con l'ordinanza della Regione del 16 ottobre cambiano le modalità di accesso per l'ingresso all'ospedale Versilia. La visita ai pazienti ricoverati viene limitata ad un solo visitatore al turno del passo, del pranzo o della cena, per un massimo di 10 minuti e a giorni alterni. La ASL ha diffuso infatti le nuove disposizioni con l'obiettivo di proteggere i pazienti, il personale sanitario e ridurre il rischio di contagio. L'area medica e il servizio psichiatrico di diagnosi e cura saranno accessibili al passo del pranzo il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, negli altri giorni, la sera, dalle 18.30 alle 19.30. Per la chirurgia e la terapia intensiva le visite saranno consentite al passo del pranzo il martedì, giovedì e sabato e nei restanti giorni della settimana alla sera. Nessuna modifica per la riabilitazione e per il materno infantile. I familiari e chi presta assistenza devono essere autorizzati per iscritto dalla direzione del reparto e devono effettuare il tampone contattando la preospedalizzazione. Niente accompagnatori durante le visite ambulatoriali, salvo minori o disabili. L'accesso del Versilia, già da settimana, è regolamentato da un nuovo prefiltraggio, viste le lunghe code che spesso si verificavano nei giorni più critici. All'ingresso viene controllata la temperatura e la sintomatologia respiratoria, oltre ad una verifica su eventuali viaggi in zona in focolaio o contatti con casi di Covid-19. Come sapete le ultime restrizioni hanno ridotto ancora la possibilità di fiere internazionali, nazionali e anche manifestazioni, ha avuto conseguenze questo ulteriormente sui Luca Comics, ribattezzati quest'anno Luca Changes, con eventi ancora ridimensionati. Sentiamo Virginia Sorriani. Luca Changes cambia ancora, non potrebbe essere altrimenti, dopo le norme contenute nell'ultimo DPCM dello scorso 18 ottobre. L'edizione 2020 di Luca Comics & Games si riduce ulteriormente, per lo meno per quello che riguarda gli eventi in presenza. Dei 50 appuntamenti annunciati, solo 30 sono stati confermati. L'organizzazione della manifestazione fa sapere di aver preferito interpretare in maniera più prudente e restrittiva le indicazioni normative anti-Covid. Così, sebbene l'ultimo decreto ammetta le fiere di carattere nazionale, Luca Crea, la società che organizza Luca Comics, ha scelto di tagliare iniziative dal vivo e location. Niente più eventi negli auditorium, ma solo esibizioni di carattere spettacolare e performativo, che si terranno presso il Cinemastra, il Teatro del Giglio, e il suo ridotto, il Teatro San Girolamo. Tutto ciò che non potrà essere organizzato fisicamente a Luca verrà trasmesso online, attraverso lo streaming sui canali social e il supporto dei partner dell'iniziativa, dai campfire sparsi su tutto il territorio nazionale alla RAI. Emanuele Vietina, direttore generale di Luca Crea, tranquillizza che chi ha già acquistato il mini-ticket per uno degli eventi cancellati potrà chiedere un rimborso e avrà diritto al biglietto ridotto per l'edizione 2021. Si guarda già il futuro di questa edizione, da tutti avvertita sicuramente come qualcosa di profondamente diverso. Nei commenti e alla diretta social della conferenza stampa si legge nostalgia per lo spirito degli anni scorsi, fatto di incontri con autori, firma copie e poi le sfilate dei cosplayer. Francesca Fazzi, fresca di nomine alla presidenza di Luca Crea, si dice soddisfatta di aver saputo presentare, anche in questo anno particolare, una proposta e dei contenuti per un pubblico affezionato, in particolare in queste date che sono ormai identitarie della manifestazione. Chi invece ha scelto di fermarsi completamente è il Forum Internazionale della Formazione a Camaiore che a questo punto guarda solo che al 2021. Alla fine gli organizzatori di Teseo e il Comune di Camaiore si sono dovuti arrendere. Di fronte alle ultime, inevitabili restrizioni decise dal governo, si è deciso di sospendere la quarta edizione del Forum Internazionale della Formazione, previsto per questo sabato a Lido di Camaiore. Un programma già ridotto ad un solo giorno e adattato alla situazione sanitaria, che aveva comunque raccolto un gran numero di adesioni, persino oltre le capienze già limitate. Ma dopo l'ultimo DPCM non è rimasta altra scelta. Tutto pronto e nello stesso tempo tutto sospeso. Tengo però a sottolineare la parola sospeso, il termine sospeso, perché per noi si tratta davvero di un periodo di sospensione, di attesa, che la situazione ovviamente migliori, che il contesto ci consenta di ritornare e magari anche con un'edizione completa. Come ricorderete quest'anno l'edizione era già ridotta, quindi soltanto ad un pomeriggio. Noi non perdiamo la speranza di poter tornare presto e magari con un'edizione completa. L'orizzonte è naturalmente quello del 2021, con la volontà sempre più forte di rimarcare il valore della formazione e soprattutto della formazione in presenza, a dispetto di quanto la pandemia abbia costretto a fare in questi mesi. Noi come Tesiamo siamo una società di formazione che operiamo quotidianamente con gli strumenti a distanza, ma il format del forum, sembra un gioco di parole, secondo noi non permette questa modalità. Il forum nasce come una forma di condivisione, di confronto, se vogliamo persino di convivialità, nella quale le persone si ritrovano, riflettono, incontrano i relatori e questo secondo noi non poteva essere fatto a distanza. Si sarebbe perso molto dello spirito che anima il forum. Votiamo pagina, adesso vi andiamo a presentare e a svelare il nuovo logo turistico unico della Garfagnana e Valle del Serchio. Eccolo, è il logo che rappresenterà l'ambito turistico di Garfagnana e Media Valle del Serchio e che accompagnerà le tante iniziative di promozione turistica. Presentato ufficialmente nei giorni scorsi nella sede dell'Unione dei Comuni della Garfagnana, il nuovo logo, dopo che è stato approvato e condiviso da tutti i 19 sindaci del territorio e dai rispettivi presidenti dell'Unione dei Comuni, da oggi è l'immagine e la cartolina che accompagnerà tante iniziative turistiche di promozione della Valle del Verde e del Buono. Il nuovo marchio segna di fatto un momento storico in quanto unisce, forse per la prima volta, Media Valle e Garfagnana. Ed è stata una scelta logica, intelligente, ma soprattutto conveniente per tutti, poiché i comuni, anche quelli della bassa Valle del Serchio, potranno fregiarsi per le loro attività del nome Garfagnana, che come tutti sanno è un brand conosciuto e apprezzato non solo a livello nazionale, ma anche all'estero. Il logo rappresenta tutti i comuni e tutti i sindaci della Garfagnana e della Media Valle del Serchio. È un simbolo importante perché tiene insieme un ambito turistico unitario, che è quello della valle, con i suoi contenuti, con le sue esperienze e con le sue straordinarie potenzialità che sono state dimostrate anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Un ringraziamento speciale alla Regione Toscana che ha finanziato questo progetto e a tutti i sindaci della Valle del Serchio che hanno dimostrato la capacità di andare al di là dei propri campanili per un progetto unitario, comprensoriale che ci fa stare tutti insieme. Il nuovo marchio è caratterizzato dai colori più rappresentativi del territorio, l'azzurro del cielo e delle limpide acque dei torrenti, il verde dei prati e delle cime appenniniche, ma anche la presenza di un verde più profondo. Nel logo si notano gli archi del Ponte del Diavolo, ma possono rappresentare anche tanti ponti che uniscono le verdi vallate della Garfagnana. In questo periodo, così difficile e complicato per le persone e le loro attività, per una volta tutta la valle è unita e questo potrebbe essere un segnale per rilanciare il territorio dell'intera Garfagnana e della Valle del Serchio. Brevissima pausa, adesso tra poco di nuovo insieme con le notizie sportive. A tra pochissimo.